Che sicuramente ha un'azione risolutiva a livello dolorifico, sintomatologico. È un ottimo farmaco, ha un costo anche molto basso rispetto agli altri farmaci e non richiede una gastroprotezione. Addirittura in alcuni casi può essere dato anche a stomaco vuoto, come suol dire comunemente. Addirittura mi sembra che non ci sia anche da banco rispetto agli altri. Sì, diciamo che in alcuni casi può essere dato anche da banco, comunque basta anche una ricetta bianca, ha un costo molto basso rispetto anche ad altri farmaci e poi va ricordato che comunque è il farmaco di prima scelta secondo le linee di guida più importanti, comprese quelle nostre italiane sulla lombalgia acuta, quelle statunitensi, quelle inglesi e anche quelle australiane. Quindi insomma sono farmaci, questi sono degli indirizzi che uno specialista non può non tenere presente. Senta, allora per quanto riguarda invece il discorso farmacologico, spesso vengono dosati insieme antinfiammatori e mio rilassanti. Sì. Io so che le scuole di pensiero fisiatriche in genere sconsigliano questo tipo di... Sì, anche questo pensiero qui, il fatto di associazione. Questa è una cosa molto importante perché frequentemente il medico di famiglia, che chiaramente non ha una specializzazione specifica sul problema, è chiaro che si comporta come comunemente gli viene insegnato. In realtà le linee guida proprio indicano in modo chiaro che, diciamo, la sovrapposizione di due medicine, una un antinfiammatorio con un farmaco che appunto è decontratturante, quindi agisce sulla muscolatura, non ha un'efficacia superiore al solo antinfiammatorio. Quindi non si comprende per quale motivo debba essere fatta una doppia somministrazione di questi farmaci quando poi si è visto che concretamente su studi importanti, scientifici e internazionali appunto non si ha un effetto, un beneficio reale. Perciò diciamo che alla fine il mio rilassante viene preso in più, quasi gratuitamente, diciamo, perché si potrebbe evitare tranquillamente. Sì, 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 non solo, ma anche dipendenza a tempi brevi. Questo è un altro problema che dà questo tipo di farmaco e non sembra dare nessun effetto significativo, quindi si deve scegliere o l'uno o l'altro. Non conviene comunque dare, diciamo, entrambi, soprattutto poi se miscelati insieme nella stessa silinga come spesso accade. Questo è un altro errore perché possono dare anche fenomeni di precipitazione farmacologica per cui conviene evitare proprio questo. Perciò diciamo che a questo punto uno prende intanto il paragedamolo così comincia ad alleviare i dolori. Esatto. Poi, naturalmente, probabilmente, se è una cosa transitoria, un fenomeno transitorio, sicuramente la situazione migliorerà e perciò fino a quasi, apparentemente, scomparire, diciamo, la sintomatologia dolorosa. Sì, sì. E praticamente, invece, se questo non dovesse avvenire, magari c'è soltanto in qualche modo un attenuarsi, diciamo, della sintomatologia, a quel punto ci si rivolge a uno specialista. Cioè, uno specialista del settore specifico può essere un ortopedico o un fisiato, l'ortopedico in genere cura più la parte chirurgica e il fisiato invece più la parte clinica. Comunque, la cosa più importante a dire è che si deve partire da un'indagine che sono anche abbastanza semplice. Cioè, per fare una radiografia di tutto il rachide, quindi il rachide cervicale, dorsale e lombosagrale, in piedi, in ortostatismo, diciamo noi, molto importante per la valutazione delle curve del rachide stesso, per vedere laddove può essere utile agire dal punto di vista biomeccanico, dal punto di vista anche rieducativo. Assai frequentemente capita che lo specialista può guardare soltanto la risonanza magnetica, ad esempio, che viene fatta in una posizione, come sappiamo, in posizione supina, che non ci dà una corretta misura delle curve del rachide, per cui si può avere un trattamento riabilitativo che è basato su un progetto che non è specifico, che non è appropriato in questo senso. E anche il terapista ha necessità di avere delle indicazioni chiarissime da parte del fisiatra o dell'ortopedio, chiaramente, per poter eseguire un trattamento che sia appunto adeguato al problema. Perciò diciamo che si chiama clinostatica, mi sembra la posizione... La posizione clinostatica, sì. La posizione clinostatica è in orizzontale, allora, quando uno prescrive la risonanza magnetica, giusto? Sì, sì. Perfetto. Però lei mi stava dicendo, appunto, che effettivamente non si può valutare perfettamente la colonna in una situazione di questo tipo. Però la risonanza magnetica, purtroppo, bisogna farla per forza in quel modo, non c'è molto. È il caso eventualmente di fare sia una radiografia che una risonanza per una migliore valutazione e perciò, in qualche modo, per l'espressione di una diagnosi più precisa? Allora, indubbiamente il primo percorso da scegliere è quello di fare una radiografia di tutto quanto il Reich, dopodiché deve eseguire necessariamente una visita specialistica che deve evidenziare qualche deficit di natura neurologica, neuromotoria, diciamo noi, dopodiché da lì parte un'eventuale prescrizione di risonanza magnetica. Io credo che oggi sicuramente vi sia un po' un abuso di prescrizione di questo tipo di indagine che comunque risulta preziosissima. Però, ecco, deve essere sempre preceduta da un accurato esame obiettivo dal punto di vista neurologico, dal punto di vista fisiatico, proprio per evidenziare quali sono le cose che si vanno a cercare con precisione la risonanza magnetica. D'altro non dimentichiamo che è anche un'indagine che ha un costo non irrilevante. Certo, ultimamente poi è mutuabile, ma prima, fino a qualche anno fa, mi sembra che... Sì, non cambia molto che sia, certo, mutuabile o non, comunque è sempre un costo elevato a carico del sistema sanitario nazionale. Però, diciamo, forse proprio in questo modo, forse è proprio questo il discorso dell'abuso. Però, quello che volevo dire, effettivamente, la risonanza adesso ci permette di verificare se ci sono dei danni proprio al livello del disco, a livello... Prima, con radiografia, non si poteva verificare completamente questa cosa. Certamente. No, no, è un mezzo, diciamo, assolutamente prezioso. Però, il problema è che oggi si fa un, diciamo, un utilizzo forse improprio di questa preziosissima metodologia, insomma, che evidenzia le lesioni in modo molto preciso. Addirittura si sceglie in alcuni casi di, non so, intervenire o meno, non so, può essere un intervento di bocchirurgico o altro, semplicemente guardando una risonanza magnetica. Bisogna partire necessariamente da uno studio delle curve, a parte casi chiaramente particolari, i casi in cui ci sono delle lesioni di scali che sono gravissime, con una sintomatologia chiaramente imponente. In quel caso, è chiaro che il chirurgo deve intervenire nel tempo più breve possibile. Però, questo per fortuna accade di rato. più frequentemente, si vede come senza neanche, diciamo, così, insomma, curare molto l'aspetto clinico del paziente, si passi subito a un trattamento, mentre è molto importante vedere, anche perché poi lo studio del rachide consente delle verifiche successive per vedere se veramente il trattamento riabilitativo ha sortito al suo effetto, insomma. E allora, principalmente, diciamo, facciamo questa risonanza. Una volta che viene appurato una lesione, insomma, un danno, sicuramente, alla colonna vertebrale, come potrebbe essere anche una normale riduzione di ampiezza del disco, oppure magari una produzione, un'estrusione discale. Come si procede a quel punto? Allora, sì, non è che la presenza di una lesione discale vuoi che sia, non so, una ernia del disco, oppure una produzione per il proprio, oppure un bulging, così detto, cioè una degenerazione parziale del disco, ci dia un indirizzo chirurgico, chiaramente. Cioè, una persona può avere anche più ernie del disco, non per questo deve essere sottoposta ad un intervento chirurgico. Vi sono alcuni fattori meccanici molto importanti che si evidenziano dal punto di vista clinico. Ad esempio, io posso avere un'ernia del disco, diciamo, anche abbastanza importante, che però non mi dà compressione sul tessuto nervoso. In questo caso, il paziente, non avendo nessun deficit neuromotorio, non deve essere indirizzato all'intervento chirurgico. Vi sono casi in cui, invece, un'ernia anche di piccole dimensioni, però trovano un paziente che ha uno spazio vertebrale che è piuttosto ristretto, quindi con un'importante compressione sul nervo e un deficit neuromotorio, in questo caso, invece, è opportuno consultare il neurochirurgo. Quindi, i pazienti devono essere seguiti durante tutto quanto il percorso di questo mal di schiena, dall'inizio fino al termine di questo percorso. Tanto per intenderci, per esempio, una protruzione non va trattata, per esempio? Chirurgicamente? No, in genere, la protruzione di scale, anche se sono multiple, in genere non vengono trattate chirurgicamente, così come anche le degenerazioni di scale, che si chiamano bulging, in genere riservate a un'ernia. E l'atteggiamento, devo dire, questo è un grande piacere anche del mondo chirurgico, è molto più prudente rispetto a una volta, perché poi si è visto che le recidive delle problematiche di scale tornano anche dopo l'intervento chirurgico. Quindi, in pratica, ci si muove soltanto, dal punto di vista chirurgico chiaramente, soltanto quando si è in presenza di un deficit neuromotorio, insomma, conclamato. Ecco, da questa sua, le ultime parole che ha pronunciato, sembra quasi che prima si operasse più facilmente rispetto ad oggi. Beh, indubbiamente, diciamo, almeno dal punto di vista statistico, questo si può proprio osservare, c'era una tendenza a un maggiore interventismo dal punto di vista chirurgico, poi però si è visto, anche perché si faceva un'assoluta buona fede, cioè si pensava a risolvere facilmente il problema, invece si è visto successivamente che si formano delle aderenze fibrose o altre problematiche, comunque, correlate con l'intervento chirurgico, che possono dar luogo a delle, diciamo, a dei dolori che poi ancora più difficilmente possono essere sedati mediante fisioterapia o mediante opportuni farmaci. Però sembra quasi una contraddizione questa. Oggi che praticamente si riesce a capire subito che c'è un'ernia, presente con una risonanza e tutto quanto, allora magari si opera di meno. Una volta invece che effettivamente l'ernia non si poteva riscontrare con certezza prima con una radiografia, ho sbaglio. Sì, ma io non parlo di così tanti anni fa, diciamo, questo anche durante le prime fasi della risonanza magnetica già avveniva questa consuetudine in cui gli interventi chirurgici si facevano molto frequentemente anche per dolori abbastanza contenuti, tutto sommato, anche in assenza di diveri e propri deficit neuromotori. Prima della cosiddetta risonanza magnetica nucleare, però, come si faceva uno a diagnosticare un'ernia?